Cazzo che corsa Grande staccata con sorpasso all'esterno alla parabolica Vi garantisco che non è così semplice in queste condizioni Come ho detto prima in queste cola, in queste condizioni È veramente molto molto forte Ha fatto un sorpasso alla parabolica Ma mia, in quattro Questa è un po' di traffico Non ci credo, non ci credo, non ci credo Nooo Sulla stessa linea E sono molto equilibrati Cola 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 Che è obbligato a scegliere la traiettoria esterna Per intentare l'attacco in prima variante Ma niente da fare Non glielo può sentire Cola 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 Grazie a tutti. Stalla la vettura di cola che poi riesce a ripartire ma perde tantissime posizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stai calma, non è successo niente. Stai calma, non è successo niente. Non ci sono fatti niente. Andres, è saltato? Non ci sono fatti niente. Stai calma, stai calma. Mamma, mamma. Stai calma, non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente. Stai calma. Stai calma, sto calmo. Non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente. Stai calma. Stai calma. Ma non mi sembra di capire che ci sia qualche pilota ferito. non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente di più. Non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente. Non ci sono fatti niente. Guarda qua. Ti è uscì. Stai calma. Non posso farvi? Porqu'è questo? Ma è davvero un pizzo E' scelto? Per forza, che ve lo fa? Ma quale sei? Ma quale sei? Ma il cazzo del senso ce la fa la safety car? Il team è il motivo solo per fare la safety car, ti sono messi paura. I cari si fanno la partenza proprio.